... Negli studi Abruzzo Web, Alfredo Moroni, vicepresidente del Comitato Organizzatore della Perdonanza Celestiniana, l'annuale Giubileo Aquilano, giunto all'edizione 721. È un'edizione che avrà delle novità interessanti, è stata presentata da poco, qualcuno ha rilevato dal punto di vista degli spettacoli, perché per ora parliamo di questo, l'assenza del concertone a cui tutti erano abituati, al tempo stesso si risponde con un grande evento legato al jazz, che anche se ci sarà poi più avanti rispetto ai giorni canonici, insomma è un'edizione un po' diversa. È un'edizione dove ci sono sicuramente delle novità, intanto nei luoghi, perché noi quest'anno per esempio il corteo, sia il corteo storico che il civile, lo facciamo partire tutto da San Bernardino, Palazzo Fibbioni, e quindi è una prima novità, perché? Perché il centro di una serie di iniziative, anche di esibizioni teatrali e di altro, di spettacolo, sarà proprio la Basilica di San Bernardino. In secondo luogo c'è una novità assoluta, che la nostra perdonanza non verrà confinata come sempre, diciamo, tra il 23 e il 29, il momento dell'accensione del Tripode e il momento dello spegnimento, ma inizia il 16 di agosto da Sulmona, e cioè noi accompagneremo la fiaccola con i tedofori e faremo insieme tutto il percorso, ed è un percorso che comunque precede addirittura i tedofori, perché il 16 ci sarà uno spettacolo a Sulmona e poi il 17 a Pratola, poi seguirà Fontecchio, Fossa, Paganica, fino ad arrivare appunto al giorno 23. E avrà tra l'altro un momento di grande esaltazione, che è la giornata del 6 di settembre, la giornata in cui si conclude quest'anno la perdonanza, anche se è un evento eccezionale, unico e irripetibile, cioè i jazzisti, 580 musicisti jazz, che diciamo su iniziativa, su proposta del Ministro Franceschini, saranno all'Aquila in funzione di solidarietà, ma anche in funzione di dimostrare che il jazz è una musica che unisce, che integra e il tema della integrazione, che è il tema della perdonanza di quest'anno, è chiaramente molto coerente con l'iniziativa del jazz. Il grande evento c'è, ma ci sono anche altre iniziative nel corso, anche del periodo canonico 23-29, molto importante per esempio sarà il concerto dell'orchestra di Piazza Vittorio, il giorno 29, che è un'orchestra, diciamo, multietnica e che, diciamo, è anche a livello internazionale in questo momento, ma ci sono poi tutta un'altra serie di cose importanti. Nella Basilica di San Bernardino verrà ospitata, per esempio, il 25, la Passio Ominis di Calenda, con l'Ina Sastri, che è, diciamo, dal punto di vista della qualità, io credo sia una delle cose eccezionali. Ultimamente San Miniato l'ha ospitata questa produzione e ha avuto un successo enorme. Voglio dire, stiamo cercando di dare una qualità, di fare un salto, quel salto che ci consentirà anche di dire a chi giudicherà effettivamente nel mese di novembre il merito che noi riteniamo di avere, e cioè la perdonanza come patrimonio immateriale dell'umanità, e cioè l'UNESCO effettivamente sarà, come dire, certo, convinto che questo riconoscimento può essere dato a giusta ragione. Senta, veniamo al corteo storico, di cui è stato svelato qualche dettaglio. L'anno scorso è partito da Palazzo Fibbioni, che doveva diventare, sembrava a brevissimo, invece c'è avvoluto un altro anno, la nuova sede di parte del Comune. C'è stata una suddivisione sempre l'anno scorso, quindi tra Palazzo Fibbioni, Piazza Duomo, qualche scollamento, qualche disordino organizzativo. Quest'anno si sono apportati dei correttivi? Sì, si sono apportati dei correttivi, intanto perché abbiamo la possibilità, avendo ormai il luogo di rappresentanza, che è Palazzo Fibbioni, tutto il corteo, quindi anche da parte civile, quindi la parte che precede, si avvierà alle ore 16 da Palazzo Fibbioni. Anche nella composizione della partenza, e quindi nell'ordine di partenza, ci saranno delle modifiche, perché quest'anno inseriamo ulteriori elementi, che sono la presenza dei quarti, finalmente siamo riusciti a concordare, a convenire, l'anno scorso ci fu una cosa sperimentale con il quarto di Santa Maria Paganica, quest'anno ci saranno i quarti, e che quindi non consentiranno più che i comuni saranno lì a sfilare in ordine alfabetico, come era una volta, ma invece saranno all'interno di una composizione per quarti che si inseriranno lungo il percorso, nella maniera ovviamente studiata. Poi è chiaro che ci sono una serie di presenze molto importanti all'interno del corteo, ne voglio dire soltanto alcune perché sono collegate ad alcuni eventi che quest'anno sono significativi, ci sarà il direttore del Tg2, Marcello Masi, insieme alla giornalista Mattei e ad altri suoi colleghi che saranno presenti anche al corteo, perché? Perché nella giornata precedente saranno insegniti delle chiavi della città dell'Aquila per l'importante ausilio e l'importante funzione che ha avuto il Tg2 come testata esterna al territorio abruzzese in relazione al terremoto e quant'altro. E poi ci saranno una serie di personaggi che animeranno una tavola rotonda sul dialogo interreligioso sempre il 27 e poi ci saranno coloro che parteciperanno al torneo della pace. Cioè c'è, come dire, una condizione che stiamo cercando di determinare in funzione anche di un collegamento tra il nostro giubileo, cioè l'unica porta santa al di fuori di Roma, il giubileo annuale e il giubileo della misericordia che Papa Francesco dal mese di dicembre, diciamo, celebrerà fino alla fine del 2016. Ecco, a proposito di Roma c'è stato questo dono, tra virgolette, di una promozione nella capitale si spera che abbia anche apporto in termini numerico di partecipanti, di turisti. Sì, stiamo lavorando molto su questo, il tema della comunicazione, il tema anche di una pubblicità che comunque cerchi di qualificare al pubblico più vasto anche la perdonanza non solo come messaggio ma anche come momento di, come intenzione e come desiderio di visitare la nostra città, il nostro territorio, un territorio che quest'anno collabora di più, unito rispetto agli anni precedenti perché compartecipe come castelli fondatori della città dell'Aquila a tutto il percorso. Tant'è vero che sono tutti parte del comitato, ormai del comitato perdonanza e quindi stiamo cercando di lavorare in maniera che il marketing possa comunque svolgere una funzione, una funzione anche a vantaggio di un territorio straordinario, bellissimo e tant'è vero ci saranno delle iniziative collaterali, le vie dello Zafferano per esempio, che coinvolgeranno l'intero territorio, ma soprattutto lo facciamo in funzione del fatto che si deve conoscere il messaggio di Celestino e la Porta Santa che è, io lo ripeto, l'unica Porta Santa al di fuori di Roma, al di fuori di San Pietro che questo è importante anche perché rispetto al Giubileo della Misericordia probabilmente qualche funzione in più potrebbe anche averla. Ed ecco che facciamo, abbiamo attivato una serie di canali pubblicitari, quindi stiamo su Roma con i nostri manifesti che sono poi più o meno, non so se si vede così, stiamo su Trenitalia quindi con freccia rossa e cioè stiamo cercando di fare in modo che quello che si è fatto anche negli anni precedenti attraverso una programmazione della comunicazione in via ordinaria effettivamente possa poi evidenziarsi con qualche sforzo ulteriore. Poi, peraltro, non ci è costato nulla, il che significa che comunque è un'altra cosa che portiamo a casa positivamente. Ecco, a proposito di costi, sempre l'anno scorso e comunque nell'edizione precedente c'è stato qualche fiatone, diciamo così, per arrivare con il budget c'è stato qualcosa che è venuto a meno, qualcosa che è arrivato in ritardo che poi ha comportato anche delle conseguenze pratiche negative evidentemente quest'anno ci sarà più certezza, più rilassatezza su questo punto? Ma la ricerca delle risorse è sempre molto attenta però è sempre spasmodica perché è molto difficile reperire risorse perché le risorse pubbliche sono comunque limitate, sempre più limitate le risorse private, quindi gli sponsor, devono essere legati anche ad un beneficio che gli sponsor stessi ovviamente riescono ad ottenere in termini di visibilità e quant'altro e quindi è sempre una questione molto delicata quest'anno devo dire c'è stata una compartecipazione diversa più comminta di alcuni sponsor quindi sono aumentati sia in termini di qualità sia in termini di quantità e quindi abbiamo un budget sicuramente leggermente superiore noi insomma lavoriamo sempre con grande prudenza e anche grazie a questa prudenza siamo riusciti negli ultimi due anni da quando questo comitato per donanza si muove ad evitare che ci fossero conti in rosso a consuntivo lo stiamo facendo anche quest'anno lo stiamo facendo però con un impegno straordinario perché straordinario? perché comunque al di là dei costi che sono i costi normali, naturali quest'anno abbiamo un costo aggiuntivo perché è vero che la grande giornata del 6 di settembre è una giornata di solidarietà in cui i 580 musicisti che saranno qui con noi ci esibiranno gratuitamente però il costo complessivo dell'operazione è un costo elevatissimo perché in termini di fornitura di service, di ospitalità di tante cose che qui non sto a dettagliare per noi rappresentano un costo straordinario rispetto alle perdonanze diciamo alle edizioni normali dal punto di vista del periodo 23-29 ma noi riteniamo che comunque se questo del jazz è un evento unico e irripetibile lo quantifichiamo questo impegno straordinario? ma attualmente stiamo per questo impegno e ripeto i musicisti sono qui gratis e c'è un impegno del ministero direttamente nei confronti di questa iniziativa e c'è poi la SIAE che ci dà una grossa mano e quindi fa da sponsor tuttavia ad oggi il costo per il comitato è intorno ai 50.000 euro quindi in una giornata utilizzare non dico bruciare perché non sono soldi bruciati sono soldi ben spesi perché vedremo che sarà una giornata straordinaria veramente irripetibile dove tutta la città e tutto il centro verrà animato da questi straordinari musicisti ebbene però c'è un costo e su questo noi dobbiamo fare ovviamente le nostre bisogno di una grande attenzione anche per questo perché poi rappresenta una percentuale non trascurabile del budget complessivo della perdonanza per chiudere sulla perdonanza la bolla a Milano fa la comparsa fa la protagonista che risultanze avete su questa presenza all'Expo? Noi siamo soddisfatti intanto perché è stata un'operazione anche questa importante perché è stata inserita tra i tesori d'Italia non è stata inserita tra come dire quei percorsi all'interno di quei percorsi che non venissero poi collegati a momenti diciamo rappresentativi di un valore o storico o artistico del nostro paese è stato riconosciuto quindi dai curatori della mostra tesori d'Italia a cominciare da Sgarbi che comunque la bolla è simbolicamente come valore e come messaggio un elemento importante ecco della mostra stessa e quindi anche rispetto al numero di visitatori del padiglione Italia che sta poi vicino al padiglione dove appunto c'è questa mostra dove è esposta la bolla beh io credo che possiamo essere assolutamente soddisfatti qualcuno dice vabbè ma non c'è una spiegazione ci sono le didascalie ovviamente è collocata in maniera tale che comunque è lungo un percorso studiato ed è comprensibile eccetera oltretutto abbiamo anche avuto l'opportunità di svolgere alcune esibizioni lì in Expo e quindi diciamo c'è stata un'attenzione c'è un'attenzione che è riconosciuta e che quindi riteniamo sia meritevole anche di un giudizio positivo